Miguel Racconta Rio, un'iniziativa rivolta alle scuole dell'Unione Italiana Sport per Tutti e della Borsa di Miguel è un manifesto in cui si possono leggere, o meglio sono nascoste, 50 storie delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Rio si tratta di storie che non necessariamente sono di vincenti o di medagliate delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi c'è la portiera angolana che non ha paura del suo peso, dei suoi 100 kg ma anzi li porta addosso con grande disinvoltura e orgoglio c'è la prima medaglia del Kosovo, c'è la favela che è stata cancellata dal Parco Olimpico ci sono tante storie paralimpiche e olimpiche nascoste in questi codici QR che possono essere fotografati e poi scaricati e che nascondono appunto queste storie, quindi Miguel Racconta Rio, 50 storie di sport e di vita raccolte durante i 31esimi giochi olimpici di Rio de Janeiro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti